Non saranno più i sanitari del Santo Spirito di Pescara a occuparsi delle cure di Luca Cavallito, l'ex calciatore 49enne raggiunto da vari colpi di pistola nell'agguato che si è consumato a Pescara lo scorso lunedì 1 agosto nei pressi della strada parco e in cui è apparso la vita Walter Albi, architetto 66enne. I due amici si trovavano proprio nel bar del parco quando un uomo armato e con un casco integrale ha fatto fuoco sui due uomini, farendo a morte il 66enne. Mentre le indagini vanno avanti a ritmo serrato nel massimo riservo per risalire all'identità dell'aggressore che ha sparato contro Albi e Cavallito e per individuare l'eventuale mandante di questo agguato, la notizia delle ultime ore riguarda proprio Luca Cavallito, trasportato al Gemelli di Roma per complicanze epatiche. Con il trasferimento del 49enne nell'ospedale della capitale è stata revocata anche la sorveglianza armata al reparto di rianimazione del Santo Spirito di Pescara, blindato dopo che un uomo si era presentato in ospedale per chiedere con insistenza informazioni circa lo stato di salute di Cavallito poco dopo l'agguato. Nel nosocomio pescarese l'ex calciatore era stato sottoposto a più interventi chirurgici prima di essere ricoverato in rianimazione. Nell'agguato del 1 agosto era stato raggiunto da almeno 4 colpi, riportando lesioni a torace, addome, arto superiore destro e volto. Quattro giorni dopo il ricovero era stato sottoposto a un altro intervento chirurgico per estrarre un proiettile rimasto nella spalla. Adesso le sue cure sono affidate ai sanitari del Gemelli di Roma.